Lungino e Vito Giacalone, allo stand di Don Gambero a identità golose. Certo è finita l'epoca degli scapuzzatori a mano sul molo di Mazzara. Sì, ma continuiamo a fare tutto a mano e ci mettiamo lo stesso amore di una volta. I nostri gamberi vivono a 700 metri di profondità, nelle correnti pure e fortemente salate del Mediterraneo. Ecco il segreto del loro sapore unico. Sì, ma oggi non è più solo il pescato che conta, vero? Il gambero conta sempre, ma oggi noi siamo maestri nel trasformare il prodotto in un pronto all'uso. Si apre il packaging e il prodotto è veramente pronto all'uso. Eh sì, abbiamo eliminato tutto il tempo sprecato dallo chef nella preparazione del gambero. Deve solo pensare alla sua ricetta.